Andiamo a prendere posto per questo pomeriggio di riapertura Devo prendere l'appostamento Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 non recupero acqua guarda dove sono ora per uscire qua ci vuole elicottero per uscire da qua è giudato d'acqua ma non recuperato sono pieno di spine e rovi dappertutto mi sono strappato tutto sono tutto strappato ma non si poteva lasciare non per caso guarda dove c'è questa questo non è il sangue del colombo c'è il sangue mio mamma mia che recupero non 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 Grazie a tutti Ho cambiato nuovamente posto Grazie a tutti Grazie a tutti Eccolo qua E' morto 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 E' morto